buongiorno a tutti allora abbiamo parlato di formula 1 adesso è il momento di parlare di calcio notiziole come sempre di giornata del 9 giugno 2018 riguardante il calciomercato quindi partiamo subito con il sassuolo e con berardi che è sempre più vicino alla roma quindi settimana la si rifà l'attacco berardi e clivert ne parleremo dopo poi milan interesse del seviglia per musacchio quindi un altro giocatore del del milan che potrebbe partire dagli una mano comunque visto che anche loro sono messi un po così così con il bilanciuzzo quindi la partenza di musacchio al cino alla seviglia potrebbero portarsi a casa un po di soldini potrebbe essere importante proseguono le voci di mercato che riguardano mandragola e il genoa però ci sono parecchie altre squadre su mandragola ma ne parleremo durante le due i miei due video di oggi via proposta di rinnovo del contratto a 8 milioni per i carni da parte dell'inter pare pare perché sapete che loro sono giù in africa palma pare che lavanda abbia chiesto 9 cioè signori questa c'ha l'intelligenza proprio la furbizia la furbia me la mangerei in tutti i sensi che hanno dato 8 e 6 a 5 t'hanno dato 8 perché devi almeno non le far parlare fa niente comunque l'intero freoto a i carni vedremo poi proseguiamo la spal sta pensando a scuffe dell'unidese per la prossima stagione l'anno scorso nella scorsa stagnosne il portiere della spalera gomis la juventus sta provando a prendere golovin del csk mosca o golovin del csk mosca è un buon centrocampista un signor centrocampista classe 96 quindi anche relativamente giovane 22 anni il turno 22 dipende quando li compirà comunque classe 96 ottima scelta sfida emiliana sassuolo parma per brignola attaccante o seconda punta del benevento bologna il difensore masina pronto per una nuova avventura in premier league sembra essere vicino al watford inter proseguono le voci di un forte interessamento per beresinski terzino della 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 sandoria poi proseguiamo eder sembra in procinto invece di fare il cammino inverso di beresinski e cioè tornarsene alla sandoria e un'accoppiata eder quagliarello eder zapata potrebbe essere un'ottima accoppiata scusate gioco di parole fiorentina idea pulga lo sfida a genova per mandragola quindi vi stavo dicendo appunto che su mandragola ci sono parecchie squadre poi il cagliari come sappiamo il cagliari era interessato a castro aveva già l'accordo col giocatore però se il chievo dovesse dire no stanno pensando a grassi che forse forse la volta buona che nel cagliari trova spazio spal nuovo e nuovo per la difesa è il difensore giorù che nonostante il cognome e anche il colore della pelle è di nazionalità svizzera è un classe 87 è un bel animalone bello forte per la difesa perché un metro e 92 di altezza quindi la spal si rinforzerebbe mica da ridere perché mettere un omone così al centro della difesa vediamo chi passa proseguiamo west ham incredibile perché signori lo united di sua maestà coroncina giosè morigno ha offerto guardate bene 60 milioni per avere arnautovic il west ham gli ha detto ma ciao non lo accettiamo comunque signori voi tenete conto che nel 2010 arnautovic era quel ragazzino che era via usa fare far fare la ola e girare per il campo felice come una pasqua perché avevamo appena vinto la champions ma lui non aveva manco giocato avrà fatto forse uno o due partite o qualche spezzone di partita ogni tanto e a distanza di otto anni il suo ex allenatore lo vuole nella sua squadra e la sua squadra la squadra di giosè morigno offre 60 milioni per lui è una bella iniezione di fiducia poi proseguono le voci di un addio di abate al milan la destinazione ancora da vedere ma pare che potrebbe andare in premier c'è sempre il volverentone in in ballo però c'è un però siccome il milan a conti ancora infortunato non si sa quando rientrerà come rientrerà eccetera poi c'è solo calabria può darsi che il milan per il momento gli dica soprassediamo resta un attimino e poi magari vai via gennaio o magari vai via in chiusura tanto c'è tempo fino alla metà agosto poi proseguiamo la sandoria ha nel mirino come probabilmente ho già detto l'altro giorno ferrari del bologna e invece la squadra libera il genova squadra ligure è pronta a riabbracciare sturaro dalla juve o da dovera poi milan prima con primi contatti con l'entourage di zapata per rinnovare il contratto quindi zapata continuerà a essere il difensore del milan spero che non mi segna ancora al 97esimo poi sotento offerti 20 milioni per pacco alcasar 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 del barcellona è un attaccante classe 93 un metro e 75 di altezza fiorentina pronta un'offerta del milan per vere tu quindi vediamo se la fiorentina intenzione o meno di lasciar partire vere tu che appunto era arrivato l'anno scorso per sostituire vessino e e borca valero arrivati a noi quindi non lo so se però vedremo prosegue il corteggiamento intanto del west ham per felipe ra anderson della lazio però l'offerta da 20 milioni della squadra inglese viene giudicata un po troppo bassa dall'utito devono un attimino alzare poi proseguiamo con le dichiarazioni di mirabelli che cerca di tranquillizzare ai tifosi rossoneri dicendo che i migliori non partono allora si parla che donnarumma dovrebbe andare via suso dovrebbe andare via montolivo dovrebbe andare via abate dovrebbe andare via mi dite chi resta dei migliori bonucci addirittura se dovesse arrivare un'offerta ieri prima c'era poi non c'era la notizia che anche bonucci potrebbe partire chi cacchio è che resta dei migliori va vero una battuta per i cuginetti proseguiamo a proposito di battute c'è anche quella di salà sulle dichiarazioni di ramos che ha detto divertente ciò che ha detto ramos ancora mirabelli sull'attesa della sentenza uefa che dice è un'avventura comunque noi restiamo in attesa e continuiamo a lavorare come se la uefa accettasse la situazione o comunque ci ci lasciasse nelle condizioni in cui siamo parlando sempre di milan c'è lì che non solo non ha alcuna intenzione di lasciare il milan ma sta proseguendo nella ricerca di un nuovo socio per cercare di tenerselo il milan vuole bere tu la fiorentina vuole locatelli quindi sono due cose notizie separate però attenzione la fiorentina vuole locatelli il milan vuole bere tu potrebbero decidere di fare uno scambio a vicenda poi ci sarà da con guarda dare un conguaglio da una parte o dall'altra o magari fanno uno scambio di prestiti visto che tutte e due vogliono un giocatore magari la fiorentina dice no vero e tu non ve lo diamo il milan può dire vabbè locatelli ve lo possiamo dare a tot vabbè vedremo come evolverà la situazione concludiamo con l'inter che le voci sul possibile arrivo di nengolani nerazzurro non sono del tutto infondate come sappiamo la richiesta della roma parte da intorno ai 40 milioni vediamo cosa succederà il problema è uno solo se l'inter dovesse prendere ipoteticamente per 40 milioni il caro nengolan mi sa che sarà molto difficile con il barcellona riuscire a convincerlo a darci il caro raffinia in prestito perché questi ci dicono scusate avete speso 40 milioni per per nengolan e non avete i soldi per pagare ciccini non è che siamo qua a pettinare le bambole comunque nell'incontro che avverrà in settimana per raffinia visto che ne approfitto c'è anche il padre che probabilmente comincerà a pestare giù in poi piedi o magari tira fuori la scarpa come fece cruce va ai tempi e cerca di convincere le due parti a mettersi d'accordo visto che il ragazzo vuole vuole giocare con noi staremo a vedere bene la prima parte del notizie di mercato della giornata del 9 giugno 2018 è conclusa adesso partirò con il secondo e purtroppo li vedrete nella giornata del 10 giugno tutti e due ciao